Hai perso il controllo. Quel coso voleva ucciderci. Anche tu ti arrabbi quando combatti. La rabbia può essere un'arma se la sai controllare e usare, ma tu non ci riesci. Quando per... È da tanto che non sto male. Sto meglio ora. È io che credevo che la vostra specie fosse più illuminata, che voi foste migliori di noi, più intelligenti. Invece tu ti nascondi qui, nella foresta, come un gran codardo. Sono focale. Tu sei una strega? Io non posso curarlo qui. La mia casa è là, dietro quegli alberi. Tu sei che sei un tipo in gamba, ragazzo. Sei un ragazzo, giusto? Ha un nome? Che ne so. Questa maleducata non ha chiesto il mio e quindi io non ho chiesto il suo. Il ragazzo non sa chi sei. E io voglio che non lo sappia. E tu chi sei? Io? Sono il più grande ambasciatore degli dèi, dei giganti e di tutte le creature dei nove regni.